Der Gondelfare il gondoliere parole per traghettare la mente scelte lette interpretate per voi da angelo callipo le parole più belle che possiate immaginare Diario di un killer sentimentale di Luis Sepulveda, sesto e settimo giorno Dopo aver viaggiato sul Concorda al doppio della velocità del suono il volo da New York a Città del Messico risultò monotono come un tragitto in treno Allora, da dove hai intenzione di iniziare, mi chiese dallo specchio il tipo con indosso un giubbotto uguale al mio Devo trovare un attrezzo, risposi Una Browning 45, insiste lui Non è il momento di fare il difficile ma rimedierò qualcosa di decente, sussurrai Buona fortuna, pensionato, mi augurò quella faccianota Lascio la valigia al deposito Occupatene tu, lo salutai Il tassista che mi portò dall'aeroporto alla zona rosa era un professionista dei buoni consigli Secondo lui, dovevo condurre una vita da asceta senza mangiare né bere perché il governo aveva avvelenato numerosi alimenti e bevande in modo che la gente si preoccupasse d'altro e non parlasse più delle svalutazioni La zona rosa è come un supermercato di armi Feci un giro osservando l'attrezzatura che portavano le guardie giurate di varie agenzie di vigilanza Mi piacque la colt calibro 38 che spuntava dalla fondina di un tipo magro all'uscita dei grandi magazzini Sunborns Piegai con cura un biglietto da 100 pesos e mi avvicinai Scusi, ho bisogno del suo aiuto, dissi infilandogli la banconota in un taschino della camicia Dica pure, signore rispose lui fingendo di non aver visto il regalo Nel bagno c'è un finocchio Sono andato a pesciare e mi ha toccato Cose del genere non si fanno a un vero uomo Perché non gli mette una bella paura? Forza, facciamo scappare il finocchio a gambe levate disse gonfiando i pettorali E però ci vuole discrezione perché è figlio di un amico ed è di ottima famiglia Prima vado io Gli parlo e subito dopo arriva lei e me lo spaventa per bene Non si preoccupi, la seguo Andiamo dal ragazzo Nel gabinetto degli uomini c'erano due tizi davanti agli urinatoi Imprecarono quando mostrai loro il cartellino che diceva pulizia dei bagni e vi preghiamo di scusare il disturbo I due finirono di fare i loro bisogni uscirono e io appesi il cartello fuori dalla porta d'ingresso Poi chiusi le cabine dei cessi e aspettai La guardia comparve dopo pochi minuti Si è infilato lì dentro per la vergogna, disindicandogli una cabina Esci fuori ragazzo Esci e non ti accadrà nulla assicurò la guardia avvicinandosi alla porta Gli sbattei la testa contro la parete divisoria e completai il lavoro con due colpi alla nuca Era abbastanza leggero Non mi costò alcuna fatica piazzarlo seduto su una tazza La colt sembrava impeccabile e le dodici pallottole di scorta passarono in fretta nelle mie tasche Finalmente armato lasciai la zona rosa Andai fino al San Bons di Avenida Insurgentes Non avevo ragioni precise per andarvi ma ricordai che una delle foto mostrava l'incarico mentre passava davanti alla libreria El Pendulo a due passi da lì nel quartiere Condesa e ricordai anche che in un'altra foto appariva sulla soglia di una casa sopra la cui porta era stato posto un cartello del quale si leggeva solo la parola VITA Bebbi una birra e aspettai che mi venisse un'intuizione VITA quartiere Condesa ONG quartiere Condesa la zona preferita dagli artisti dagli intellettuali piccolo-borghesi dagli alternativi e perché no sede di una ONG il cui nome comprendeva la parola VITA dovevo cercare un ago color paglia in un pagliaio Nell'Avenida Baia, California trovai un albergo dal nome premonitorio Il Trionfo Presi una camera e chiesi in prestito quella copia dell'enciclopedia britannica che è l'elenco telefonico di Città del Messico Alle cinque del mattino dopo aver bevuto litri di Coca-Cola fumato cinque pacchetti di sigarette e scorso i nomi di centinaia di imprese e di organizzazione i cui nomi terminavano con la parola VITA trovai quello che cercavo Istituto Case Pro VITA sull'angolo fra Atlixco e Alfonso Reyes quartiere condesa A quella scoperta il mio cervello si illuminò trovando delle coincidenze con ciò che sapevo dell'incarico Istanbul il convegno, le megalopoli, Istituto Case e i problemi migratori Pro VITA mi senti dire mentre indossavo il giubbotto e controllavo il tamburo della Colt Calibro 38 la porta dell'albergo era chiusa con una grossa catena e faticai a svegliare il portiere di notte addetto anche alla reception ma no, non posso lasciarla uscire a quest'ora è molto presto ed è ancora in giro la polizia le ruberebbero anche l'anima è meglio che aspetti le sei su, metta le birre che io le offro le chesadiglias che ha preparato la mia vecchia mentre aprivo delle bottiglie di corona ringraziare la prudenza di quell'uomo avevo dimenticato che città del Messico durante le ore notturne appartiene ai delinquenti della polizia giudiziaria bevemmo e mangiammo le sue chesadiglias fredde ma saporite e alle prime luci dell'alba uscii per strada riconobbi la casa immediatamente era la stessa che avevo visto nella fotografia mancava solo l'incarico in piedi sulla porta di fronte all'edificio al di là del viale Alfonso Reyes c'era una chiesa per fortuna i templi messicani aprono presto alla clientela entrai era quasi vuota perciò non mi fu difficile arrivare fino alla porta che conduceva le scale del campanile i gradini erano coperti da uno spesso strato di polvere segno che nessuno li calpestava da tempo lentamente la strada si animò il chiosco di un fioraio aprì i suoi colori alla mattina un altro appese giornali e riviste un ragazzo entrò nella casa che stavo sorvegliando dopo un po' vi entrarono anche due ragazze che però vidi ricomparire mezz'ora dopo il postino suonò il campanello aprì il ragazzo e prese un fascio di corrispondenza le ore passavano lente tutta la mia attenzione era concentrata su quella casa ma a tratti non riuscivo a impedirmi di immaginare la mia gran figa a passeggio sul viale che avrei fatto se l'avessi vista? sarei sceso giù per andarle incontro era a città del Messico a Veracruz in volo per Parigi alle due del pomeriggio si fermò davanti alla casa il fattorino di una pizzeria consegnò tre scatole tre e io avevo visto entrare solo un ragazzo chi erano gli altri due commensali? alle quattro del pomeriggio cominciai a lottare col sonno e fui grato al rauco brontolio del cielo che annunciava un temporale in arrivo da nord nuvoloni neri oscurarono rapidamente la strada e si scatenò quasi subito un acquazzone vidi uscire il ragazzo di corsa entrò nel supermercato all'angolo e dopo pochi minuti ne uscì con due stecche di sigarette dal mio punto di osservazione riconobbi il marchio Chesterfield e tornai a pensare alla mia gran figa perché fumava proprio quella marca alle otto di sera pioveva ancora ero fradicio e tremavo come un cane mi tenevo sveglio passando le pallottole da una tasca all'altra come se fossero i grani di un rosario la porta si aprì ancora una volta di nuovo il ragazzo stava per chiuderla dietro di sé quando si voltò e anche se non potevo sentire cosa diceva era ovvio che stava parlando con qualcuno all'interno poi dette due giri di chiave e si avviò in fretta sotto la pioggia decisi di scendere e arrivai appena in tempo per impedire che un vecchio sbarrasse le porte della chiesa non l'avevo vista signore per un pelo non resta qui rinchiuso fino a domani il temporale si fece più violento non si scorgeva anima viva e all'improvviso dopo una serie di lampi l'illuminazione pubblica si spense mi fermai davanti alla casa e impugnai la colt nella mano destra aspettai un nuovo fulmine e mi lanciai contro la porta la casa era tutta immersa nel buio in fondo al corridoio tuttavia si vedeva brillare una lucina fioca avanzando rasente al muro passai davanti alle due stanze che servivano da uffici e poi a una cucina sollevai il cane della colt e con un calcio aprì l'ultima porta la mia gran figa francese aprì gli occhi pieni di lacrime voleva alzarsi dal materassino su cui era seduta ma quando vide il revolver si limitò ad aprire la piccola bocca rossa la luce della candela che illuminava la stanza si rifletteva sulle sue guance accanto a lei c'era l'incarico tremava e sudava mi guardò a chiuse gli occhi facendo intendere che capiva la situazione a lei non fare nulla è una francesina che si è cacciata in questo guaio senza rendersene conto disse l'incarico volevo tornare ma non potevo lasciarlo in questo stato guarda guarda cosa gli hanno fatto singhiozzò la mia gran figa francese vi conoscete allora tu l'incarico non riuscì a terminare la frase perché le parole gli morirono in gola il mondo è piccolo dannatamente piccolo risposi è tornato ieri da un viaggio sono venuta a salutarlo e all'improvviso sono arrivati degli uomini e gli hanno iniettato qualcosa bisogna chiamare un medico ma lui non vuole proseguì singhiozzando la mia gran figa francese quelli della dea davvero quei figli di puttana credono che a istambul abbia voluto giocargli un brutto tiro ieri sono venuti e mi hanno fatto cinque dosi per punizione e cos'è la dea perché parlate come se vi conosceste non capisco nulla nulla portami via da qui voglio tornare a parigi a casa strillò poveretta la mia gran figa francese bene conosci già il motivo per cui sono venuto ma prima voglio sapere perché lo fai perché introduci droga a buon mercato negli stati uniti perché perché li odio i gringo li odio bisogna bisogna farli marcire vogliono l'eroina beh io gliela do è quasi gratis bisogna farli marcire dentro è l'unica via di scampo che abbiamo noi latinoamericani capisci per ogni schiena bagnata per ogni immigrato clandestino per ogni messicano che umiliano alla loro merdosa frontiera io io ne faccio marcire un bel po' capisci addio filantropo dissi avvicinandogli la canna alla bocca la detonazione fu breve e secca è così che latrano le colt calibro 38 la mia gran figa francese poveretta tremava con gli occhi sbarrati la abbracciai maledicendo quella dannata trappola della vita portami via di qui gemette contro il mio petto certo amore mio le sussurrai all'orecchio prima di sparare sotto il suo meraviglioso seno sinistro perché era vero l'amavo ma non potevo agire diversamente in quel mio ultimo lavoro ero un killer e i professionisti non mischiano mai il lavoro con i sentimenti prima di uscire andai in cucina e aprì tutti i rubinetti del gas stavo salendo su un taxi in avenida Taumalipas quando udì l'esplosione e cos'è stato capo chiese l'autista il temporale no che altro poteva essere e le dà fastidio la musica oh no lasci pure e solo allora scoprì che dalla radio arrivavano i versi di quel corrido che dice quando vide la mia tristezza lei voleva andare ma era già scritto che quella notte avrei perso il suo amore la musica Grazie a tutti.